Benvenuti in questo nuovo video di Roblox, quest'oggi proviamo Dandy's World Siamo un po' in ritardo perché è una mappa uscita da un po' di tempo, credo un mesetto, è andata molto di moda Però ve lo dico sinceramente, io di solito non amo, su Roblox ve lo dico onestamente, i giochi storia Perché sono un po' lenti e pian piano inizio a sbadigliare, però non sono in cambio quindi non mi vedete sbadigliare Invece a fare piacciono tanto, ma proprio tanto Devo dire che almeno non so niente di questo gioco, quindi giochiamo totalmente senza sapere cosa ci aspetta Devo dire che i personaggi sono molto carini, su quello non c'è dubbio Vorrei riuscire ad entrare in un match da soli, ma ho il presentimento che sto tizio ci vuole proprio seguire Sì, sì, sta proprio attaccato dietro Ed eccolo qua No, vattene, dai, non ti voglio Se lui entra noi usciamo Devi premere Steph Oh, ma che già segui? Guarda, bro, ce ne sono sette qui Bro, vai a giocare con i tuoi amici Vai con i tuoi amici Non ti vogliamo È andato, perfetto Ok, andiamo, corri, 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 corri Oh, ma sti bibiche Questa è la nostra voglia di socializzare nella vita Sì, più o meno rappresenta tantissimo quello che facciamo anche al di fuori delle registrazioni 9, 8, 7, vi prego, non fate entrare nessuno 5, 4, ok Dai, dai Perfetto Oh, ma io sto così davvero, cioè perché la gente a te si vuole appiccicare? Lasciami vivere la mia vita e tu viviti la tua Ma poi dice erano sette e veniva da noi che eravamo in due Allora, quindi questo è il mio personaggio Ci sta già dicendo Il round inizia tra dieci secondi Non mi sembra il classico gioco di storia però questo Ah Cioè questo setup perlomeno non lo sembra Magari lo è lo stesso però non lo sembra Sembra più una sorta di game show Oh, i volumi è molto bassi No, ma in realtà è questo gioco che ce l'ha molto bassi perché io non li sento Ok Preparati per il primo piano Si sta formando la stanza, raga io non so niente Vabbè reagiamo in tempo reale, let's go Ok, dobbiamo riempire il macchinario per poter procedere Steph, mi sta avvenendo il dubbio Non è che magari è un gioco che si fa in tanti perché uno deve essere il cattivo e noi non abbiamo il cattivo No, ci avrebbe fatto fare il cattivo uno di noi, cara Ok Forse quindi è tipo un empissino Come, come si chiamava, Rainbow Friends Ok, raga ho fatto il good job Allora io ho già trovato un liquido strano Io sto Dove ci sono? Dei macchinari dove aveva messo? Eh, sto a fare un casino io perché non ci ho capito niente Perfetto, cara Ottimo Eh, lo devo mettere il liquido? Sì Io ho praticamente finito Perché ho fatto tutto per... Vabbè, ma raga è facile A parte per un bimbo Cos'è stato? Steph? Eh, è successo qualcosa Esatto Oddio Mollami, mollami No, non mi toccare Perdi una vita e quindi non muori instant Ok Eh, infatti mi ha levato un cuore Perché era più veloce di me e non potevo schivarlo Ok E comunque sì che puoi schivarlo Puoi correre con shift Oddio, oddio, oddio Puoi correre con shift Sì, sì, ma è piena quello il problema Ecco, non sapevo della corsa Ora cambia tutto Ora cambia tutto Ora è potentissima, ragazzi Sì, Steph Ci sono dei cibi a terra da mangiare Non è un gioco con storia Allora, ascoltami sette secondi così capisci come si vive ed esiste un mondo Dobbiamo fare i quattro macchinari L'ho capito Ok Ne ho fatto una Credo che poi lui si sia scantato sul macchinario per distruggerlo Abbiamo tre vite In giro per terra trovi il cibo con cui puoi mangiare E hai shift per correre Chiarissimo Cos'è questo invece, raga, secondo voi? Non ne ho idea 5 tapes Eh sì, è un po' di quelle robe spooky L'hai preso quello? Lo prendo io Mi sa che ognuno vede il suo staff Allora, qua c'è un macchinario Mi metto a farlo C'è un bro che mi insegue, aiuto Bro, vattene, dai, non c'ho voglia Ollami Noi ci guardiamo Così attorno Vediamo se viene questo mob Vorrei capire perché Io ne avevo fatto uno E siamo a zero Se l'ha davvero spaccato lui E se l'ha spaccato se devo rifarlo da zero Secondo me Avendo fatto un macchinario anch'io Non l'abbiamo riempito del tutto Dici? Però il mio era finito, eh Dici? Sì Sì Perché il mio mi ha dato il feeling Che non fosse terminato Ok Comunque quindi è un gioco Minigame Dove hai degli obiettivi Per poter andare a livello successivo Con dei mostri Ti vogliamo far fuori Vedi che adesso l'ho fatto Andiamo Vedi che il mio non è pieno Ok Andiamo ragazzi Invece questi tapes Credo che sia la valuta del gioco Tipo le monete Hai capito? Mhm E io ne ho 26 Non si può saltare Sta cosa mi triggera Eh sì Anche me triggera Mi ha visto Occhio perché ti sto correndo incontro Non ci posso fare nulla Sei tu? Eh sì ma c'è anche un mob Ok Oddio quanto è veloce Credo che sono safe No sono io questo però cara Ah ok ok Perché allora i mob che vedo molto spesso Sono col tuo personaggio Quindi ho difficoltà a distinguerti Siamo a due Ne hai fatto tu uno? Sì ne ho fatto a una ora Ok Quindi ne mancano solo due Ah Però io non penso di avere Altro inchiostro Io ne ho Vedete che questo era praticamente Cioè mancava mezzo secondo Quando mi aveva attaccato il mob Incredibile Eh ci sta E l'ultimo è lì E lì mi sa che c'erano i mob però Con calma No vabbè ci non c'è nessuno Oddio Ed è quello che aveva fatto fare Ne manca pochissimo cara No no io ho finito quello che avevo iniziato Ah no hai ragione Era grigio mi sembrava nero No no io ho finito quello che ho iniziato prima Ok Carino interessante Ricorda più tipo un color soft dye No? Se devo fare un paragone Sì Stavo notando qua Che c'è dell'inchiostro per terra nero Per terra nero Eh un attimo mi sono incasinata Perché mi stanno inseguendo E mi è comparso l'occhietto come se fossi nascosta Quindi non so se serve a nasconderci eh No secondo me quello compare Quando smette di vederti la persona che ti inseguiva Cara corri all'ascensore Oddio è pieno di gente Devo fare il giro largo Il mob non può venire dentro l'ascensore Hai 20 secondi So qua Corri Non posso do la stamina Ecco io C'è il cibo per la stamina Ecco Yippie Yippie Eeeh Eeeh Vedi Ah ecco Con i tapes Lo stopwatch che fa Lo posso sapere L'ho comprato Ok This item to increase Skill check window Size by 5 Non so cosa sia E cioccolato Io non ho E le istruzioni Non ho così tante cassette Quindi lascerò perdere Tanto 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 undertale Quel personaggio Sì Molto undertale Carino comunque Bel gioco Eh infatti tu lo stavi criticando Dicendo con storia Non l'ho criticato L'ho snobbato pensando fosse con la storia Esatto In realtà è tutt'altro Anche se dobbiamo fare sempre la stessa cosa Mi pare no Sempre riempire le macchine Allora credo di sì Però probabilmente diventa sempre più difficile In base ai mob che incontri C'è un mob vicino a te Eeeh Lì però ci sono due di inchiostro Ne prendiamo una testa Quindi cerco di fare il giro largo E li prendo Ok Vuoi l'altro? Te lo lascio? Sì Beh l'hai preso uno o due? Uno Allora prendi anche l'altro Perché è ognuno suo Eh vedi Sì immaginavo fosse così Ho trovato una barretta Disappointing Crazy Stamina Regeneration Sì la stamina Ti ricarica la stamina Sì peccato che Ho trovato anche la barretta Non ho capito se c'è un rumore In casa nostra Non credo No non mi fa bene ansia Stai fai Secondo me un gatto ha buttato giù qualcosa Non lo so Siamo solo noi i gatti Quindi non mi mettere ansia Soprattutto quando sto giocando un gioco del genere Ti dicevo Peccato che non abbiamo un modo per recuperare i cuori di vita Sì L'hai visto? Sì L'ho schivato Eh ci vedeva per forza Stava venendo di qua Eh ma il problema è che attacca Ranged Non è tanto che ci vede Eh è matto Ecco vedete che a me dice che non ha più visuale su di me Ti hai aiutato? Mi ha sfiorato No no non mi hai aiutato Ho sempre due cuori Allora credo che ce l'abbia con me Ok Quindi adesso lo semino al volo Credo che basti Giusto raga Eh anche io sto facendo il giro per cercare di finire il mio macchinario Sembrerebbe Non lo vedo più Proviamo dai Infatti la cosa difficile è che stiamo solo in due Secondo me in tanti player è molto più easy Forse ci sono più mob Ditecelo nei commenti se sono curioso Invece Secondo te la barra è quella dove premi spazio È un po' più veloce dal primo livello al secondo? Non mi è sembrato Secondo me invece sì Ci tengo a farlo sapere No Perché ho beccato una slow un S3? Ok per fortuna è da tre secondi A posto Allora già visto il mio prossimo macchinario Vado a farlo Eh io non so se ho inchiostro Credo di no Ma se hai preso due capsule sì Dici che mi basta Io credo che sia due per ognuno Ah Credo eh Non lo so Il problema è dove sta l'altro macchinario? L'ho visto è tutto alla sinistra Quindi dalla parte opposta di dove eravamo prima Ok noi eravamo lì dall'altra parte E c'era però anche un mob quando ho visto io Infatti per quello ho scelto questo Eh raga credo che mi abbia visto Non mi aveva ancora visto ma quasi comunque almeno scappiamo Oh dove è sto scendente di macchinario? E qua dove sono io? Ma mannaggia Qui L'avrò seminato il mob? Se no puoi andare al mio perché io ho sveciato Eh vado al tuo Vado al tuo dai Sto coniglio è una rottura d'anima Ok bravo Fai il giro dell'asino Almeno andiamo più avanti possibile Fatto Quindi siamo a 3 di 4 4 di 4 tra qualche secondo cara Pronta a correre Infatti mi sa che mi cerco già l'ascensore Anzi mi lascio la stani Eh la stani Ma la stamina Ben carica Andiamo ancora Dai easy Anche il secondo piano è abbastanza facile Si Si gestisce anche in due Perfetto Ole Spero di poter comprare qualcosa Panic timer non è male Però anche la corsa La resistenza Dai la resistenza per tutti Ah Ognuno sceglieva la sua Non lo so Era una votazione Era una votazione secondo me Abbiamo messo 5 secondi in più di panic room Giusto? Eh non lo so Perché io ho scelto l'altra La resistenza La resistenza Ok Eh vabbè Secondo me i due sensati E' questi comunque Eh infatti Perché ho detto anche la resistenza E' utile Visto che stiamo sempre correndo Da una parte all'altra Questo un po' alla Vampire survivors eccetera Cioè finisci il livello E hai un upgrade Da poter scegliere E il mio inventario è pieno Raga Io uso questo a caso Ah aspetta Ah ma io posso Anche se non ho preso l'inchiostro Scusa Come funziona quindi? Credo che ne hai un tot come inventario Che non sappiamo da dove vederlo Non ho ancora capito dove sta Forse è con T perché mi dice Premi T per vedere le statistiche Può essere Magari lo vediamo tra quelle statistiche Non lo so Raga onestamente non so Cosa ho potenziato Per questa prima capsula Però l'abbiamo finita Quindi va bene così Ci facciamo andare bene Però vi giuro Non ho Minimamente capito Arriva qualcosa? Però io sto finendo Mannaggia E allora vado dall'altro lato Ok Due di quattro andati Fatto Utilizzo questa cosa Per rendere la velocità Di corse camminate 25% più veloce Che quello mi può salvare la vita Allora io continuo a raccoglierne E certo A sto punto va raccolto Tutto quello che vedi Sì sì Io lo conservavo un po' Invece va raccolto Eh infatti uguale Uguale Raga punto Terribile Però qua l'hanno messo Qua lo dobbiamo fare Ne sto facendo un altro anch'io Mi è passato di fronte un mob Che per ora non mi sembra Mi abbia visto Spero che non faccia il giro Che passi dove sono io Io mi sto girando tutto il tempo Aia Dai che ansia Raga mi vede vero? Ok Allora devo per forza Potenziare la speed No arriva No non mi ha visto Forza Ok Continuo Mi è passato di fronte Non mi ha visto Dovremmo averlo seminato Finito Ma non era questo L'ascensore Come no? Scarsa C'era proprio il Questo non è raccoglibile Quindi non è l'ascensore Ce ne sono Ok Ce ne sono più di uno Io sono salvo Anch'io ci sono C'avevi il mob dietro tu Sì sì Perché Gli sono corsa di fronte Dicevo però ce ne è più di uno Di ingresso Secondo me L'altro sembrava l'ingresso Aia Cosa c'è? Health kit Io questo me lo compro Quanto è? Tre Cento nostri Vai Top E poi vende il cioccolato Uno lo compro Che ti cacola fa? Però aspetta Non me lo prende Per quell'inventario pieno Ok Aumenta di 25 la stamina E del 10% La tua velocità di corsa Al cioccolato Non è fortissimo Ricordatelo Conviene secondo me Il cibo raccoglierselo Per terra Ho preso anche io L'health kit Così ho i cuori pieni Ok Allora il mio personaggio Però Ha detto Ho paura del prossimo piano Ecco Ti volevo avvisare Che sarebbe stato Un piano speciale Ecco perché No Eh sì Oddio Oddio Che figo sto garden view Così raga Con tutti i personaggi È pieno Il designer dei mostri Di sto gioco Lo vorrei assumere Immediatamente Ho trovato il cioccolato Per terra Quindi si trova anche per terra Interessante Infatti Non so cosa ne pensi tu So che magari non è il momento Però almeno così Hai meno paura Ma no È terrificante E Ma sta ancora in giro Sono dell'idea Che un gioco del genere Lo puoi fare Solo quando hai Un artist designer Bravo A contemplare dei personaggi Sono d'accordo Perché secondo me Il successo di questi giochi Alla base Sta anche proprio Sulla figaggine Cioè guardate che figo Sto personaggio qua raga Se fosse brutto Secondo me Non funzionerebbe Tanto Questi giochi Sono tutto personaggi Un po' come Five Nights at Freddy's O Rainbow Friends Sono tutti personaggi Devono essere fighi Perché sono il core del gioco Se li sbagli Secondo me Ti perdono proprio Di atmosfera Abbiamo un problema Raga sto caricando Un po' la stamina È pieno di mob È buio pesto E io non ho mai visto Un macchinario Su cui lavorare Io ne sto facendo uno adesso Io non ne ho mai visto Uno in mappa Se qua viene un mob Non hai modo di scappare L'unica cosa Che possiamo fare È questa inquadratura Opla Opla E come si sbloccano Secondo te Gli altri personaggi Per diventare Un altro personaggio tu Oddio sto scappando Forse livellando A furia di giocare O comprandoli Non lo so È perché noi avevamo Due personaggi Cioè quello che ha Steph E quello che ho io All'inizio Dimmi che non me l'hai portato Vado via Nel caso me segue Dall'altra parte No non c'è più comunque Ok Il problema è che non trovo Lo so 3 su 4 Eh sì Non lo trovo Da nessuna parte Io nel mentre che scappo Mi sto facendo il centro Ma non è qui Si chiama culo questo raga Chiariamoci Oddio Eh Personalità Sì Perché in pratica Mi stava in segui uno Mi giro E c'avevo l'altro dietro Che non vedevo col buio E mi ha preso proprio in faccia Ok Non potevo schivarlo Steph non lo trovo Sto Cara L'ho quasi finito Ah l'hai fatto Sì sì Monomale Sono il più forte del gioco Sì io ne ho fatti più di te 2 a 2 No Ma li ho fatti prima E quindi Il più difficile a trovare L'ho tratto io Perfetto No Ma ha preso un altro Hai una vita Una vita Ti puoi concentrare Mi hanno ucciso Che sbagliano tanti giochi Roblox E bro Se uno non c'ha da giocarti l'ora di fila Come fa? Perché questo mica è l'ultimo piano Ce l'avrebbe detto No no Che figo Un po' come dors Sono giochi pensati Per farti sempre una run Sono anche fighe le kill Vediamo i risultati Così capiamo tante cose in più del gioco Vedi però E quanto sopravvivi Io temo che sia infinito addirittura Sì sì Che fai le run ogni volta Ti conta tutte le cose che hai raccolto E in base a questo penso Ecco Vedi Quanti ne hai fatto? Eh non me lo ricordo Non li ho letti Non li ho voluti leggere Eh sì Ho schippato tutto Ecco Io sto a 94 Di che cosa? Della valuta che ottieni Tra una partita e l'altra E adesso Secondo me Possiamo comprare Dei personaggi aggiuntivi Poi c'è l'UGC Store Ma l'UGC Store Sono Robux questi Giusto raga? Cioè se io premo questo Ok sì Questo è per farmi il personaggio così In altri giochi Che è una cosa che mi piace molto Eh ci sta Soprattutto se fai dei bei personaggi Eh invece Open Shop Hai trovato? Sì vedi Bytun's Lyshins Lyshins E Quanto costa? 1250 Ecco Sapete che Appena l'ho visto Io ho pensato Astro è il personaggio più bellino di tutto il gioco Ovviamente Costa 5000 Ovviamente Ci fermiamo E sono curioso di sapere Cosa ne pensate E sono curioso di vedere anche Quanto vi piace Io adoro soprattutto i personaggi La game mod è carina Ma niente di brillante I personaggi sono incredibili Cioè Guardate questo con le due teste Quanto è figo Madonna Bellissimo Ci fermiamo Ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao Ciao